ciao simo ciao ho visto il titolo del video così mi sono preparata ecco qui sicura che non vuoi qualcosa di più goloso sì ti prego ciao amici chi non vorrebbe stare in forma mangiando cose buone e golose e vi dico subito che è possibile non è una domanda retorica ora ci direi come sempre di mangiare sano fare questo fare quello ma noi non abbiamo tempo è quello che mi ha detto una cliente qualche settimana fa è venuta da me dicendo perdoni la schiettezza ma io la sfido non ho tempo per cucinare mangio sempre fuori sono sempre in viaggio ma voglio stare in forma e mangiare sano mi può aiutare così le ho confidato i miei due segreti quelli che condivido oggi con voi e hanno funzionato ma certo tutti i miei consigli funzionano perché io li provo per prima cerco continuamente soluzioni per restare in forma in modo naturale pratico e veloce è in modo trendy e sano insomma quindi per stare in forma ogni giorno nonostante gli impegni ecco i miei due segreti speciali facili pratici e veloci e alla fine del video vi svelo il mio trucco infallibile per usarli sempre se volete sapere quali sono mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video bene adesso facciamo un test qual è il peggior nemico che vi impedisce di mantenervi in forma ogni giorno potete rispondere nei commenti o nel sondaggio qui in alto allora qual è per voi non ho tempo non sono costante non so cosa mangiare mangio sempre fuori tutte le risposte se avete altre risposte scrivetele nei commenti ok per fortuna contro tutti questi nemici bastano due armi segrete sono le proteine in polvere e lo shape shake della food spring l'azienda di prodotti sani che io adoro e che è sponsor di questo video e alla fine del video vi dirò come avere il 15 per cento di sconto sui vostri acquisti non è poco scusa ma non sono la stessa cosa sono delle polveri in un barattolone e hanno anche gli stessi gusti no in realtà sono molto diversi adesso vi spiego perché le proteine in polvere della food spring sono il segreto per una colazione proteica nutriente facile da preparare basta aggiungere al latte meglio se vegetale e fare la colazione che preferite come ad esempio la mia famosa colazione del barattolone che trovate in questo video se siete di corsa bevete le proteine in polvere e portatevi lungo il tragitto questa barretta proteica della food spring le proteine in polvere della food spring vanno bene anche come post workout per ricostruire le fibre muscolari dopo l'esercizio ed essere super tonici shape shake della food spring è una polvere per fare shake proteici sani e deliziosi e non serve avere per forza a disposizione frutta o frullatore basta mettere la polvere nello shaker con un po di latte vegetale agitare e il gioco è fatto chi vuole può ovviamente aggiungere frutta piacere per renderlo ancora più ricco e goloso e quando si usa ma facile io consiglio di usarlo come integrazione di uno dei due pasti per concludere in bontà contiene carnitina che agevola la trasformazione del grasso in energia e inulina una fibra con forte potere saziante così potete mangiare a leggero anche in compagnia con la famiglia con i colleghi senza il rischio di patire la fame dopo a fine pasto sfoderate la vostra arma segreta vi bevete il vostro shape shake e ripartite alla grande pieni di energia ma non appesantiti ma io mi dimentico tutto gli occhiali il telefono le chiavi la testa figurati barattoloni puoi usare il mio trucco furbo ve lo dico subito intanto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche ed entrate a far parte dell'area riservata del canale cliccando sul bottone abbonati sotto il video o nel link in descrizione con un piccolo contributo mensile potete aiutarmi a diffondere la salute naturale ed essere anche voi trendy e sani come me il mio segreto è farmi ricordare questi prodotti da siri o google assistant col telefono mi sono messa una sveglia ogni mattina così il mio assistente virtuale mi ricorda di usare le proteine e all'ora di pranzo mi ricorda di usare lo shape shake ehi siri domani mattina alle 7 ricordami di prendere le proteine grazie per gli amici analogici basta un post it in cucina in bagno sulla porta e poi fatelo anche voi mettete i barattoloni bene in vista in cucina in un bell'angolino decorativo così sono già fuori e ce ne ricordiamo sempre per risparmiare il 15% usate il link che trovate in descrizione inserite il codice sconto vignali piccolo yt grande tutte le info sono in descrizione comunque ora che sapete cosa fare condividete questo video è bello condividere e aiutate gli altri a mantenersi in forma ogni giorno noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ma se sono uguali ma sempre più trendy e il mio segreto è farmi ricordare scusa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti